la meglio. Estate ormai alle porte con un ricco carne di eventi da nord a sud attireranno, secondo l'Agenzia Nazionale del Turismo, 28 milioni di visitatori come ci racconta Rossella Marsocci. Oltre 4.000 eventi in tutta Italia. Concerti, festival e manifestazioni sportive secondo l'Enit calamiteranno nel nostro paese più di 28 milioni di visitatori italiani e stranieri. Tra le mete giocheranno un ruolo importante anche i borghi e le località meno note. Sagre e feste di paese vedranno aumentare le presenze fino al 63,8% rispetto allo scorso anno. Queste piccole gemme della nostra offerta turistica fa sapere la ministra Daniela Santanchè sono fondamentali e aiutano a rafforzare il marchio Italia. Ad attrarre i turisti soprattutto i 290 eventi sportivi che coinvolgeranno 17 milioni di persone e i 2.000 spettacoli musicali ai quali prenderanno parte oltre 5 milioni di persone. Tra giugno e settembre sono attesi 1.600.000 passeggeri aeroportuali di cui quasi l'83% dall'estero. In testa ci sono i turisti americani seguiti da francesi, tedeschi, spagnoli e inglesi. Si sposteranno da una parte all'altra del bel paese anche tanti viaggiatori italiani. Per spuntare prezzi più convenienti il volo è stato prenotato in media quattro mesi prima della partenza per una permanenza di almeno 12 notti.